Allora questo evento dà una grande visibilità ai ragazzi e ai giovani talenti, soprattutto nella realizzazione di un prodotto finito che sarebbe la realizzazione di un CD che verrà poi depositato in SEAI e pubblicato su tutti gli store mondiali come iTunes, Amazon, Google Play eccetera eccetera. E inoltre i vincitori che saranno ben 15 faranno anche parte di un grande evento, quindi un concerto live.